Ci troviamo nel cimitero di Tropea, stiamo andando a visitare la tomba del grande Raffa Dallone, uno dei più grandi attori del XX secolo. Tropeano, di nascita, ma uomo del mondo, grande attore, che ha onorato la Calabria e la sua Tropea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.